Consigliere Angelo Tomasicchio, capogruppo dell'Italia dei Valori al Comune di Bari, lei è uno di quelli che più di altri sta tentando di avere la verità sulla gestione della Fondazione Petruzzelli. È di una gravità inaudita il fatto che ad esempio la Commissione Trasparenza del Comune di Bari richieda da mesi delle documentazioni specifiche sugli appalti e queste documentazioni, questi verbali non vengano dati. L'unica risposta vaga e quindi non esaustiva, e pertanto lo dico in televisione al commissario Fortes perché anche a me mi sono stancato di scrivere, glielo dico che non è assolutamente esaustiva la sua risposta in merito al conflitto di interessi. L'autocertificazione in relazione all'accettazione del suo incarico noi la conosciamo benissimo. Il punto non è la verifica di quei requisiti a monte sul conflitto e l'incompatibilità col suo incarico. Il sottoscritto ha sollevato un'altra questione, se è opportuno o meno essere commissario ed essere anche in parte imprenditore. La mancanza di revisori dei conti in fondazione dal 20 aprile. In una gestione già commissariale il fatto che non vi sia un collegio di revisori dei conti dal 20 aprile e che il commissario stesso magari non chieda con una certa urgenza da parte del Ministero di nominare questo collegio di revisori dei conti costituisce un vulnus e un vuoto fortissimo nell'ambito della regolarità e della correttezza delle attività che vengono svolte dal commissario che sappiamo benissimo che ha pieni poteri e pieni funzioni. La gara della custodia e guardiania è ovviamente, lo ribadiamo, non intendiamo quella fatta a luglio vinta dalla urbe, gara europea, assolutamente senza pezzo. Quello che chiedevamo. Quello che chiedevamo. Il problema è ciò che è capitato prima. Siamo soddisfatti come consiglieri ma in particolar modo i componenti anche della commissione di trasparenza che tanto si sono mossi per far comprendere l'importanza di applicare all'interno della fondazione una procedura di gara europea per l'affidamento dei servizi di custodia. Dobbiamo essere chiari e sinceri che questo consiglio è stato ascoltato. È stato ascoltato però dopo numerose nostre richieste. È stata vinta prima della gara europea da un'azienda il servizio di custodia senza averne dei requisiti. Effettivamente dalla visura camerale è chiaramente dimostrabile come questo requisito di partecipazione che doveva essere verificato assolutamente a monte e quindi l'azienda esclusa se appunto non l'aveva effettivamente si capisce dalla lettura della visura camerale che questo requisito è stato poi sanato successivamente alla giudicazione della gara. Quindi è chiaro che tutte queste cose un po' sono strane. A questo punto è strano che il verbale di questa gara ancora non venga dato alla commissione così come è stata richiesta. Grazie a tutti.